Ciao, mi chiamo Giulia Tranquillini, ho 19 anni e sono residente qua a Milano. Circa qualche mese fa ho mandato un'email a ST chiedendo se potevo incontrarvi per fare un colloquio conoscitivo. Dopo che avevo avuto un po' di esperienze negative con altre agenzie che mi avevano chiesto soldi, e insomma non mi avevano convinto tanto, così dopo aver letto qualche recensione sul web molto buona della vostra agenzia e sentito in giro qualche voce ho deciso di tentare e in poco tempo ho ricevuto una chiamata appunto da Real Time dicendomi se volevo venire appunto al casting a lavorare per Take Me Out e così sono stata scelta e sono andata a fare quattro puntate, è stata una bellissima esperienza e è stato tra l'altro il primo e ultimo lavoro che ho fatto tramite ST senza neanche addirittura aver conosciuto l'agenzia di persona, quindi sono molto contenta, è stata una bella esperienza e sono pronta e propositiva per possibili futuri nuovi lavori. Ciao!